Capito? Guardate per fare un po' scevone! Io, 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 io ce l'ho! E devo più grazie a me che le mani di me! Allora, il divertimento di questo cazzo di gruppo di amici è prendere per il culo a me, adesso perché Anastasia è lontana, perché se no... Prendete per il culo pure lei, uguale, con tutte e due! Allora bravo, senti che ciò dico! Ma venite qua, sempre, sempre... Oh, non si può scicare, Alessandra Anastasia, vedi sempre... Perché la politica? Mamma mia! Allora, quello... Sì, venite qua! No, no, io sto dicendo una marea di scuola! E mi c'ha addio a me! Perché qua invece stiamo a dire cose serie! Così, un giardiniere! Stai al complanno mio, mi metto del coltivo, ammazzo! Vedi video, vedi con me i ragazzini, vedi video! No, no! Mentre i ragazzi aperti, per pensare, non c'è l'occhio! Allora, vedete, tu sempre, io, come dire, cavolo, rendi scuola! Ah, com'hai? Oh, com'è chi lo colonna, no? C'è lo colonna con me? Lei è la figa mia, lei è la figa mia, lei è la figa mia, lei è la figa mia! Ciao!